Cari amici e cari cittadini dell'Umbria in particolare, in queste ore alcuni giornalisti, alcuni commentatori si stanno interrogando, ma il Presidente del Consiglio sta facendo campagna elettorale. Voglio offrire la risposta a voi, cittadini Umbri. Io vi porto rispetto. Se avessi fatto campagna elettorale, l'avrei fatto con rispetto nei vostri confronti. Sarei venuto qui tutti i giorni, avrei bussato alle vostre porte, vi avrei guardato negli occhi, vi avrei chiesto il voto. Insomma, questa è una campagna elettorale. Io non sto facendo campagna elettorale, per oggi sono orgogliosamente qui, presente, perché nonostante l'incarico attuale mi porti via, mi impieghi molto tempo, tengo a offrire anche una mia testimonianza nella consapevolezza che qui in Umbria non si voterà per il Governo. Però c'è in atto un esperimento interessante. Vincenzo, Vincenzo Bianconi, a qualità, può fare bene per questa Regione. Io ci ho parlato, hai idee chiare, progetti anche innovativi, è determinato. È partito tardi, però non per questo bisogna aver paura. Lui mi sembra non ne abbia, mi sembra una persona che anche per il suo vissuto, per la sua esperienza professionale, personale, non ama sottrarsi alle sfide, non ha questa pavidità. E l'ho apprezzato anche per questo. È un esperimento che è importante nella misura in cui ha sollecitato una convergenza, una condivisione. Vincenzo, come sapete, esprime una lista, ma ci sono altre liste collegate e ci sono liste anche che si ricollegano direttamente alle forze che sostengono questa maggioranza di Governo. È una sfida che richiede tempo. Vedete, le cose vanno fatte anche per farle bene e richiedono del tempo. È una sfida che esprime un progetto per questa Regione. Delinea, se mi permettete, un futuro ancora più verde di quanto non siano le colline di questa bellissima Regione, ancora più digitale di quando non siano le connessioni attuali, con ancora più infrastrutture, ancora più efficienti infrastrutture di quanto non lo siano quelle che attualmente utilizzate. Ci sono degli obiettivi. C'è una squadra che lui si impegnerà a portare avanti in caso di vittoria e io sono molto confidente che questo sarà un progetto che arricchirà, contribuirà ad arricchire questa Regione piena, ricca di risorse naturali, umane e di grande tradizione. Anche la nostra sfida a livello nazionale richiede del tempo. È impensabile che nell'arco di qualche settimana, con una manovra economica, si possa realizzare un progetto politico. Ma noi, e questo forse ha sorpreso qualcuno anche, già con questa manovra economica iniziamo a perseguire alcuni significativi obiettivi che abbiamo nel nostro progetto politico. Il nostro progetto politico è articolato, richiede e sollecita un lavoro in squadra, richiede piena questione. Ci stiamo conoscendo sempre più. Io, Roberto Speranza, non l'avevo incontrato prima. Con Nicola Zingaretti ci eravamo visti perché come precedenza, quando ero presidente del Consiglio, ci eravamo incontrati per il terremoto. Nicola, se ben ricordo, non ci siamo più visti. E così con altri. Beh, voi immaginate, per realizzare un progetto politico bisogna lavorare fianco a fianco, bisogna anche conoscersi. Quindi diamoci del tempo. Però già con questa manovra economica, vedete, io sono molto orgoglioso di questa manovra economica perché abbiamo già afferrato dagli obiettivi ben precisi e, a differenza di quello che viene anche pubblicamente declamato, questa è una manovra economica che non introduce nuove tasse a scapito dei cittadini. È una manovra fortemente redistributiva, pur in un quadro di finanza pubblica così complesso. Se noi leggiamo un poco la propaganda che circola, vediamo che è una manovra che introduce nuove tasse, nuove tasse ci viene detto per le merendine. Falso. Che introduce nuove tasse per il gasolio. Falso. Che introduce nuove tasse per la benzina. Falso. Che mette una tassazione sul contante. Falso. Però vedete, se si parla con i cittadini in questo momento questa è la narrazione che prevale. Siamo in un contesto in cui se uno è spudorato nel raccontare le bugie non interessa nessuno. Più si insiste, più si incalza e più questa narrazione prevale. In realtà questa è una manovra, dicevo, fortemente redistributiva. Perché, come è stato anticipato, è una manovra sì che introduce delle tasse. Ma introduce delle tasse sulla plastica. Introduce delle tasse sui tabacchi. Introduce nuove tasse per i colossi del web digitale. Ma opera una forte redistribuzione. Per tutte le famiglie. eliminiamo i super ticket. Introduciamo più soldi a beneficio delle famiglie, soprattutto quelle numerose. Offriamo la possibilità alle famiglie meno abbienti di poter portare i loro figli negli asili nido, come è stato ricordato. Ancora, diamo più soldi in busta paga ai lavoratori che da qualche anno attendono il rinnovo contrattuale. Potenziamo addirittura in un contesto già così difficile. È un pilastro del nostro futuro. Potenziamo la ricerca. Offriamo anche dei soldi in più per assicurare una maggiore mobilità, maggiori servizi a persone che, come Silvia, che ho conosciuto adesso, hanno qualche difficoltà nella mobilità e quindi potrebbero avere maggiori difficoltà per l'inclusione anche sociale. E poi abbiamo un progetto di misure verdi che stiamo declinando a beneficio dei proprietari di abitazioni, a beneficio di chi conduce un'azienda. Abbiamo un piano per riformare, manutenere e realizzare strutture e infrastrutture più efficienti. Abbiamo anche un piano anti-evasione, a cui crediamo molto. Ieri però ho detto proprio qui in Umbria che il nostro piano anti-evasione è un piano garbato, ma determinato. Determinato a che tutti pagano il giusto, quello che devono, perché essere onesti vogliamo convincere tutti che conviene. Ecco perché abbiamo introdotto incentivi per l'utilizzo della moneta elettronica senza penalizzare chi vorrà proseguire nell'utilizzo del contante. Ma un progetto è il nostro molto più articolato. Dobbiamo ridurre la burocrazia. Abbiamo una serie di leggi delega che ci porteranno a riformare la burocrazia. Deve essere un servizio chiaro, trasparente, rapido e immediato per cittadini, per imprenditori, per imprese. Vogliamo un Paese ancora più digitale. Vogliamo una digitalizzazione di tutti i servizi a pubblica amministrazione. Vi vogliamo dare la possibilità di rimanere a casa e di riceverli. Vogliamo ancora riformare la nostra giustizia civile, penale, anche tributaria, accelerare i tempi. Stiamo lavorando allacremente a questo con la massima determinazione. Abbiamo anche l'altro giorno introdotto nuove norme. Speriamo che queste siano quelle finali per quanto riguarda le aree terremotate, che riguarda quindi anche la vostra regione. Vedete, su questo non c'è da scherzare e non c'è competizione elettorale che possa distrarci. Voi sapete benissimo che la mia prima uscita pubblica da Presidente di questo esecutivo è stata nelle aree terremotate. Ho incontrato tanti di voi sindaci, tanti esponenti delle categorie ed anche delle comunità locali dei cittadini. Mi avete fornito in questo ulteriore confronto un ulteriore supplemento di riflessione per capire come mai, lo diceva Luigi, a dispetto delle risorse finanziarie stanziate, quelle non ve le toglie nessuno, non si riesca ancora ad accelerare queste procedure. È una cosa che mi lascia sopraffatto ritornare sugli stessi luoghi e io ritorno spesso vedere ancora i cumuli di macerie. Ecco, in questo decreto troverete procedure semplificate per lo smaltimento di queste macerie. Troverete procedure accelerate per le dirizie alle richieste, quindi di ricostruire dell'edizia privata. A questo punto abbiamo sperimentato questo nuovo meccanismo, valorizziamo ancora di più l'intervento dei professionisti attraverso l'autocertificazione, attraverso anticipi fino al 50% e di lì ci attendiamo poi di snellire le procedure di competenza degli enti pubblici e semmai poi di rimandare ai controlli successivi le necessarie verifiche. Abbiamo prorogato lo stato di emergenza per tutto il 2020, abbiamo introdotto la busta paga consistente per i prossimi anni. Abbiamo introdotto incentivi perché dobbiamo contrastare lo spopolamento dei borghi, delle comunità dell'entroterra e qui anche in Umbria c'è questo rischio. Quindi ci sono incentivi per i giovani imprenditori, meccanismo io resto a sud e varie altre misure. Noi vi aspettiamo peraltro per un ulteriore confronto. Ci siamo incontrati prima dell'approvazione del decreto, ci ritorneremo ad incontrare perché noi vi seguiremo passo dopo passo. L'ho dimostrato in passato, lo dimostrerò in futuro. Apro una piccola parentesi. Vi aspetto sabato, vi aspettiamo sabato a Roma. Sabato pomeriggio c'è una bella iniziativa. Per la prima volta è la giornata dedicata alle tradizioni folcloristiche. È una bella cosa riscoprire le nostre tradizioni, le nostre radici culturali, le nostre tradizioni popolari. Quindi dalle 15 sfileranno da tutta Italia gruppi folcloristici. Anche questo è un modo per guardare al futuro, ma per non dimenticare chi eravamo e chi vogliamo essere. I sogni per essere percepiti richiedono sensibilità, per essere realizzati richiedono coraggio, per essere comunicati richiedono leadership. Noi procediamo tutti insieme. Ci siamo. Con sensibilità, coraggio, determinazione. E ci saremo anche dopo, dopo questa competizione elettorale. Vincenzo, noi ti sosteniamo. Grazie. Grazie.